Alcuni materassi sono stati dati alle fiamme per protesta nella notte tra domenica e lunedì all'interno di due blocchi del centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Brindisi. La protesta, esplosa alle tre di notte nei lotti B e C della struttura, sarebbe nata dopo una serie di richieste di assistenza medica che i migranti avrebbero avanzato nelle ultime settimane a causa del cattivo stato di salute di alcuni di loro. L'incendio non ha provocato feriti ma danni a entrambe le palazzine che ospitano circa 30 uomini di diversa nazionalità e che sono stati trasferiti in altri locali del centro di Restinco. Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi della questura di Brindisi mentre la situazione viene monitorata dal prefetto Carolina Bellantoni. A renderla più precaria anche la riduzione delle ore lavorative settimanali dei dipendenti della cooperativa esterna che gestisce la struttura. L'8 gennaio scorso i lavoratori erano tornati in piazza Santa Teresa proprio davanti alla prefettura per manifestare contro i contratti applicati con il vecchio decreto Salvini che prevedeva indirettamente una riduzione delle ore di lavoro di chi si occupa di assistenza nei centri di permanenza per migranti.